A 37 anni dopo 301 presenze e 5 promozioni con il Cavalluccio, la scelta di una nuova vita? Sì, è stata una scelta condivisa con la società che mi ha dato una nuova opportunità, un nuovo inizio di un percorso nuovo e sperando che porti dei frutti come lo è stato da giocatore. Il lockdown ti ha aiutato a riflettere? Sì, sicuramente dopo uno stop del genere e anche con le nuove decisioni, regole, si è fatta una valutazione generale e si è arrivati a questa conclusione, ripeto, all'inizio di un nuovo percorso. Dispiace perché un giocatore comunque sia non vuole uscire dal campo il più tardi possibile, però credo che sia stato il momento giusto. Qui di fronte a noi numerosi tifosi a dimostrare l'affetto nei tuoi confronti, cosa ti senti di dire a tutti loro? Ma li ringrazio per tutto l'affetto e la stima che mi hanno riposto in tutti questi anni, che sono stati tanti anni vincenti e quindi li ringrazio per tutto quello che mi hanno dimostrato e io li ho ringraziati con le prestazioni in campo e con le numerose vittorie con questa maglia e sono orgoglioso di aver vestito questa maglia per tanti anni. Grazie a tutti!